Allora, non dobbiamo dimenticare che al centro di tutto quello che sta succedendo c'è sempre il Movimento 5 Stelle, che è il partito di maggioranza relativa, non è un partitino. Ora, la presenza magari anche virtuosa di una forza di centro, vogliamo chiamarla Forza Italia o qualcosa, che fa parte della, virgolette, la chiamerebbe di Battista Ammucchiata, fa esplodere definitivamente il Movimento 5 Stelle. Anche il fatto quotidiano l'ha definita l'ammucchiata, te lo dico. Ma è una cosa strana, mi si è venuta in mente questa parola. Ora, è chiaro che in questo momento, penso che l'arrivo di Grillo questa sera a Roma serve proprio a rimettere i cocci insieme, però se Draghi e Mattarella mettono tra i piedi dei grillini che sono già divisi perché sono fatti così, anche la presenza di Berlusconi impazziscono. Guardate, quel movimento impazzisce. Non si deve nemmeno.